Crotone Juventus, ci stiamo preparando a questo incontro, però vedo che lei è armato di sale. Eh sì, c'è un incontro che si spetta da una vita, l'abbiamo fatto pure l'anno scorso, però quando viene la Juve è tutta un'altra cosa. Perché? Perché è la grande Juve. Però noi ce la mettiamo tutti per batterla e sarebbe bello. Io so che lei è di fede anche, è di quella fede, però dice se possiamo battere la Juve. Io sono primo un crotonezzo doc, cioè tifosi del Crotone assai, un po' piace anche la Juve, però questa volta si deve mettere da parte, perché ci servono punti. E la Juve no, perché oramai? Eh, diciamo che la Juve sta puntando per lo Scudetti. Però se lo dovesse perdere a noi non interessa. Però la palla è rotonda, non si sa mai. E vediamo... Sono... Ci ha fatto 16 golle, io sono andato due volte a Torino per vedere un gollo del Crotone, speriamo che lo vedo adesso qui a Crotone, battere la Juve. Vediamo gli strumenti per battere la Juve. Sì, il sale, quello che si usava una volta, e questo qui si chiama in dialetto crotonesi il mortale, il mortale, che serviva per... Allora non c'erano le comodità, e ha 115 anni questo. 115 anni, quindi attenzione. Questo era un regalo di mia nonna, che gli hanno fatto a mia nonna, quando si è sposata. Quando ancora il Crotone non esisteva. Quando il Crotone non esisteva. Non esisteva niente. Solo la città di Crotone esisteva. E di crotonese, basta. Si chiamava Cotrone. Cotrone si chiamava. Mentre il sale è più giovane. Il sale è giovane e rimane sempre... Quello che è, c'era la loro tradizione. Questo qui serviva per ammaccare. È stato prima di morire, mia nonna, che c'è anche il mortaio di marmo a casa, dove si mette il sale, e questo si batte. Quindi sua nonna le ha dato la dote. Me l'ha data a me. Prima di morire me l'ha data a me. Però lei ora è vestito in maniera elegante, e dopo si trasformerà in un birichino. Quando arriva il Crotone, io sono nella semplicità, ma quando arriva il Crotone mi trasforma. E c'è il Crotone che gioca e mi trasforma. E quindi ci vediamo tra poco, allo Stadio Zoscida, armati di... Speriamo, no, non mi fanno entrare con questo. Speriamo che cantiamo quella famosa canzone. E per finire, come si dice? No, quella famosa canzone, quella che ho fatto ultimamente. E non si ha capito niente, la 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 la. Speriamo che porta fortuna. E la posso cantare quando usciamo. E a tal proposito, e per finire, come si dice? Fino a qua, tanto in seria, ci sono solo quelli del Crotone. E quando possiamo cantare, e Catanzaro va a cagare. Il rito del sale, il rito, ammacchia, ammacchia. Volere o volare tutti da Crotone devono passare. Sì certo, prima o poi dobbiamo difendere questa Serie A che è importante per noi, dobbiamo crederci, poi come va a finire, è stato sempre, come dire, è stato bello finché durante, è stato bello, se va male pazienza, però...